musica 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 oh il di sol no guarda Samoa guarda Samoa ma non ho provato no no ma la f***** tu hai un po' il gioco? ma c***o ma c***o t***o 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 ma c***o t***o 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 e' t***o f***o e' t***o le t***o t***o mamma konga guarda maè in ma lontano non fa bene quanto è morto schietto quanto è morto schietto incredibile è davvero allora Scriver non è andato a contrastare questo punto veramente non è fuori gioco che è età che è età no 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 secondo me lo sto andando riguardando perché secondo me il cadere è fuori gioco che è età pure è fuori gioco è fuori gioco è fuori gioco la vaffa del mondo non abbastanza per mantenere il gioco che è toccato a tutti perchè non è fuori gioco fuori gioco guarda che buca con il sinistro sbucca da frai che la controlla la scena del tuo partire attivista ma come cazzo si fa? eh, vero me ma chi le sa a mettere? dopo un tocco di acqua versatico la gioca al limite non è fuori gioco che cosa ha fatto? che cosa ha fatto? che cosa ha fatto? cretalo ma buono questo, questo è buono bravo creta parte va a fa bene dai ha fatto una gol in merda l'importante che ti dai ma non era facile no, un gol li chiedo proprio filo 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 bello bello liscio 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 non era facile ha fatto una gol speriamo che non lo è che è fuori gioco ci sono due fuori gioco ha toccato il palo questo gol di Keita che diventa il secondo miglior margattore dell'intervalle che passa tra mi sento qua, mi sento qua mi sento questo in campo che sono un fratello filo a salvare come al pallone serve i cardinari e il cardino va sul destro arriva dietro annaccia la pucca no, aggela ruba la mattina aggela ruba la starda che si lamenta se è liberato lui per il spiro però è arrivato bene per il salto ho fatto quasi un passaggio senza volerlo non per lei ancora lì al limite ma in golana apre per i caldi prove della l'intervalle adesso cosa manca su il calde? è apparello riccardo da il calde per l'inter politano lo ha sterzato sul destro chiudiamo sta partita chiudemola chiudemola è caparello è caparello che era solo un altro portiere non ha detto d'angordo ti ha senza metti di porta come va? chiudemola chiudemola è un portiere come vabbè da prendere? un cazzo un cazzo perché non ha tirato d'angordo e non ha tirato ha fatto così come va? ma non guarda quando fai così questo è un cazzo dai come va? dai mi riccardo non ho un po' io ah no è il cazzo c'è caputo a centro aria le finte di Zaic arriva Gio Mario passa a Zaic deviazione quando quando non lo schiare quando lo schiare non lo stiamo facendo lo pallone che è da Gio Mario quanto conto si fa a fare ha fatto una volta che pensa a fare a riguaccia a riguaccia come Spalletti allora ho un a zero che mi ha detto che gli so può un a zero pronosti o c'è capo come Napoli pure un a zero però Gio Tupo se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina Facebook iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram